la portò ad ogni incarnazione a cura di vb l'entità isabella si manifesta presso il cerchio esseno di cui chi scrive attualmente testimone questa foto cadendo dall'alto è stata materializzata durante una riunione di trans isabella è trapassata giovane ed è stata madre di tre figli trasmette le decisioni dei maestri riguardo alle persone che possono essere ammesse alle riunioni anna una partecipante assidua dell'esseno chiese ad isabella di poter avere la medaglia che appare nella foto e isabella la portò prelevandola dalla sua tomba adesso anna indossa devotamente la medaglietta e isabella la mette spesso in contatto con massimiliano il figlio trapassato di anna attualmente l'attività più che quarantennale del cenacolo è interrotta a causa del covid l'attività più che Grazie a tutti